Abbiamo seguito in questi giorni la fuga di Giacomo Bozzoli, l'uomo che era stato condannato all'ergastolo in Cassazione per l'omicidio del zio Mario, avvenuto nel 2015 all'interno della fonderia, molto probabilmente il corpo gettato nella fonderia, secondo l'accusa. Ebbene, Giacomo Bozzoli, la battuta in questo momento lanza, la notizia è stata presa, i carabinieri lo hanno fermato a Soiano del Garda, quindi a casa sostanzialmente. Era latitante da dieci giorni, la famiglia, la moglie, ma anche il figlio di nove anni che era stato ascoltato in procura, proprio oggi, in queste ore, in maniera protetta. L'abbiamo lasciato a Marbella, eccola l'ultima foto di Bozzoli a Marbella. Ebbene, sembra che anche lui, a quel punto, abbia deciso in qualche maniera di tornare a casa perché, lo ripetiamo, la notizia dell'ultima ora è stato arrestato proprio a casa a Soiano del Garda. Tra pochissimo vi daremo altri aggiornamenti su questo.